link al video in descrizione. Giappone, sfere luminose inseguono un oggetto non identificato L'uomo afferma di aver filmato un oggetto non identificato inseguito da sfere luminose nei cieli sopra il Giappone, e la clip stava circolando sul web sul canale YouTube dei Denunderbelli 2.0. Gli scatti di un presunto UFO che galleggia nel cielo vicino a un vulcano in Giappone hanno entusiasmato gli appassionati di internet, e alcuni dicono che si è inseguito da qualche nave più piccola. In una clip registrata nella città di Kagoshima, in Giappone, un grande oggetto luminoso appare nel cielo notturno sopra un'area urbana, con la sagoma del vulcano Sakurajima dietro. Quando l'oggetto lucido si sposta dal lato destro della cornice a sinistra, è un gruppo di luci di forma più piccola che sembrano volare in uno schema triangolare per seguire la sua scia. Il materiale è stato notato da Chris M., che lo ha pubblicato sul popolare canale di cospirazione di YouTube, dei Denunderbelli 2.0, dove è stato guardato più di mille volte da allora La didascalia dice. Questi oggetti sono stati visti dai telespettatori di una webcam in diretta che monitorava il vulcano Sakurajima. Non c'è da stupirsi che la clip abbia acceso un dibattito entusiasta sul fatto che le luci fossero UFO o meno. È un video fantastico, decisamente una nave madre con un piccolo gruppo al seguito, ha commentato un utente. C'è sempre attività UFO vicino ai vulcani, proprio come in Messico, ha scritto un altro utente. Altri utenti hanno visto il video in un aspetto diverso e hanno commentato, dando la propria spiegazione, solo droni o riflesso.